Se volete creare un team a partire da un team già esistente, quindi mantenendo alcune delle caratteristiche del team esistente, è semplicissimo. Basta andare nella creazione di un team, quindi andiamo a creare un team di tipo classe, copia la chiamiamo e andiamo a selezionare qui sotto, crea un team utilizzando un team esistente come modello. A questo punto andiamo a scegliere, non so, classe digitale, scegli team e il sistema mi chiede, vedete, quale opzioni del team originale includere. Quindi potete scegliere se includere le schede, le impostazioni del team, le app o i membri. Quindi se inseriamo tutto quanto vado a creare, crea, quindi il sistema inizia a creare il team con tutte le caratteristiche ereditate dal team precedente che io ho indicato. A questo punto mi chiede se voglio utilizzare, se voglio inserire altri membri o altri insegnanti, però vedete, già mi dice che ha già inserito i 5 membri, perché io gli ho detto di prendere anche i membri dalla classe precedente, quindi dal team già esistente, e questi me li segna già come aggiunti. Quindi se io faccio ignora, ci troviamo nel nuovo team con la struttura, vedete, copiata dall'altro team, quindi con i canali, con dei canali nascosti, con i membri e gli ospiti all'interno del canale e quindi abbiamo ottenuto il nostro scopo.